... Di come avete sentito da Chiara Leopchnik i buonanze, in cabinets! Adesso! eh, lo vedete, hai una domanda un anja si svegliero meglio, stammatina un reticolato è stato una volta all'anno poi hanno anche le partite qua allo stadio noi siamo il meno non sono mai mancati la prima edizione e questo è un altro bel messaggio che ci piace dare a tutti i progetti e a tutti i progetti sono stati impegnati come partenze dai primi 600 così come tra tutte le donne in questo caso e anche agli amici che hanno supportato il biletto di media di centra che è stato veramente apprezzato c'è stata una buona risposta perché ogni anno supporta e abbraccia una causa solitaria questo è un motivo ancora più importante per esserci e qui ci sono squadre che partono assieme per arrivare assieme di spirito vero non soltanto la squadra ma il spirito è giusto che è una scuola una domenica e qui ci sono e qui ci sono e qui ci sono e qui ci sono il giro di Italia su quale miglior titolo da dare a questa edizione numero 21 della Gran Conte Internazionale Felice Gimondi Bianchi tutto in rosa di Felice Gimondi per la pagina per la pagina per la pagina di Milano per la pagina che si riempire alla fine la fine ma non c'è la fine di anche anche la fine e per il tornado finire il centro ritro che vedrà la sua conclusione nel mese di settembre in occasione della 6 per Andrea dove atto finale e premiazioni finali e anche qui ci sono queste due speciali classifiche Shimano Challenge e qui di Andrea che sono dati a questi due amici corassotti e abbiamo avuto la prima volta perché la roma d'aleta è un problema di mano la roma d'aleta è un problema di mano la roma d'aleta è un problema di mano la roma d'aleta è un problema di pilota Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.